Per essere forti bisogna sollevare i pesi, ma solo quando si è un po' grande si può fare. A sollevare l'aria sono forte. Una cosa che ha dei muscoli e vuol dire che in quel caso è la forza se ha dei muscoli. La forza serve quando hai la macchina spenta e la devi sollevare perché non si accende. Sollevare, spingere. La forza serve per correre. Se c'è un cattivo lo combattiamo. Io ho poca forza. Io ho pochissima forza. L'energia la teniamo nel nostro corpo. Per essere muscolosi. Un attrezzo molto forte è il trapano. Quando mi finisce la forza di energia vado a dormire, dormire, dormire.